Anche oggi, ho visto anche l'altro giorno su Le Monde, fotografia mia, fotografia del professor Orsini, chi ospita persone che la pensano in un modo un po' diverso vengono tacciate di fare propaganda al sistema russia, però la democrazia è quella di confronto di idee, la ricchezza di una democrazia è il confronto di idee, perché si è arrivati a questo? La vedo in questo modo, io sono sempre... Cioè Orsini non devi lottare per farlo parlare, perché bisogna buttarlo fuori dall'università? Mi pare che la vicenda di Orsini, mi spiace di non poter... ci resterei volentieri a fare il dibattito, la vicenda è molto semplice, io credo che quello che è avvenuto fuori come caso era legato al fatto che la RAI pagasse un gettone ad alcuni... Ma paga tutti, no? La RAI paga tutti, tutti i professionisti vengono pagati. Mi faccia dire però, perché siccome sto per arrivare... mi faccia completare la frase... Solo per Orsini, vale! Capisco, guardi, scansi, sa quante... vuole che le faccia l'elenco d'ordine alfabetico? No, per carità! Non mi faccia... Poi lei su questo argomento siamo sempre molto sensibili, io penso che quello sia stato il motivo per cui è partito il dibattito in Parlamento. Dopodiché, Orsini, che non mi sembra uno timido, che non va da nessuna parte, perché negli ultimi sei mesi credo che a parte rischia tutto e solo perché rischia tutto non c'è più, è andato ovunque, quindi quest'idea che nel Paese non ci sia libertà... Si, no, ma che ci sia... Si, no, ma che ci sia la voglia di... Però se parla Orsini viene attaccato sempre a qualsiasi cosa, ma cavolo, ma qual è il problema? Lei ha sentito qui che io se c'è da attaccare attacco da destra a sinistra a tutti, non ho problemi. Quando Orsini dice che suo nonno durante il fascismo era felice, per me dice una idiozia. Quando Orsini dice che Draghi è il nostro Lukashenko, dice un'idiozia. Dopodiché io sono volteriano, non condivido le tue idee, ma non dico che darò la vita per che le possa esprimere, perché non ci arrivo a questo livello di dare la vita per le idee di Orsini, ma credo che sia giusto ascoltare tutti. Dopodiché ci sono delle cose che sono delle idiozie, perché sostenere che oggi noi non possiamo paragonare il nostro Presidente del Consiglio al dittatore bielorusso è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se può consolare, le idiozie le hanno dette anche tanti altri che hanno cambiato opinione. Quando le ho citato un attuale Vice Ministro del governo Draghi che diceva sei mesi fa che l'Ucraina era in mano a una dittatura sei anni fa, nazi-euro, e sto dicendo che evidentemente sono i tanti. Ho letto anche la quale Presidente della Commissione esteri, Stefania Craxi, aveva detto delle cose anche in passato molto forti in una certa direzione su Russia, Crimea e Ucraina, quindi voglio dire, ognuno dice le cose. Mi perdoni, una cosa è avere un'opinione sulla Crimea che è un tema, come dire, dai tempi di Cavour in poi abbastanza complesso da affrontare perlomeno in due minuti e mezzo di trasmissione televisiva. Altra cosa è sostenere che vi sia una dittatura euro-nazi, perché bisognerebbe abituarci a capire che la politica estera è una cosa seria che non si fa con le frasi a effetto. Il nazismo è stato il male assoluto, è stata la più incredibile dittatura che abbiamo avuto. Professore, è lì? Ci sente? Sì, sì, vi ascolto, vi ascolto come no. Tra poco potrà replicare. Adesso Renzi se ne va, tranquillo. La prossima volta metteteci insieme, se no, voglio dire... Ma sai, se lei prende un impegno, un confronto, io lo faremo molto volentieri. Io guarda, Giletti, visto che siamo agli ultimi giorni, ho fatto il confronto e siamo nei giorni in cui ricordiamo... Ho fatto il confronto anche con Ciriaco Demita ai tempi del referendum. Certo come no, molto tosco. Anzi, prendo l'occasione per dire, uno come me che con Demita ci aveva discusso, litigato, era stato anche, come dire, molto duro, soprattutto Demita ai miei confronti, oggi avverto il bisogno di ricordarne la vita e la morte e omaggiarne la storia. Vede, c'è un altro sottosegretario agli interni che ha detto che Demita aveva la schiena imbottita di tangenti e oggi ha fatto un comunicato a stampa per dire quanto era bravo Demita. Caro Giletti, bisognerebbe abituarci ad avere una faccia sola. Allora, io la ringrazio...